Chi è Mr. Fanny? Chi è Mr. Fanny? Chi è Mr. Fanny? Io vorrei tanto sapere. Chi è Mr. Fanny? Chi è Mr. Fanny? Chi è Mr. Fanny? Chi è Mr. Fanny? Tutto il mondo vuole sapere chi è Mr. Fanny. Tutto, anche l'interprado. Ma scusate, ma posso farmi una domanda? Mr. Fanny che faccia... Beh, vorrei saperlo. Ah, io vorrei tanto sapere. Beh, ve lo dice il vostro Mr. K.O. Non so chi si cela dietro questo nome di battaglia. Mr. Fanny è un giovane ragazzo di origine migliore. Questo è un suo identikit. E un po' dietro era un fan spiegatato di Master Wallace. Gli chiedeva in continuazione di liberargli gratis i segreti dell'MVS. Ma si sa che per Master vige la legge del prima pagare, poi ti accompagno sulla vetta del monte olivo. Non riuscendo ad ottenere ciò che desiderava, Mr. Fanny è diventato un agguerrito hater di Master. Ruolo che ancora oggi ricopre con meticolosa minuziosità. Cazzo, Mr. Fanny è una leggenda degli hating. Ha poi usato il canale di Massimo Ferrero Iena, ottenendo ben altre risposte. Infatti, Iena, nonostante il nome, ha costruito e regalato una programmazione ad hoc al nostro fan, che per gratitudine gli ha giurato fedeltà eterna. Io me lo vedo come un ragazzino brufoloso, che sta sempre su questa sedia marcita davanti a un computer, che cade a pezzi, che si scaccola il naso, che beve bevande gassate, che mangia patatine fritte. Uno che neanche sa cosa sia la differenza tra un manubrio e un bilanciere, è che però si viva questa vita come hater, perché diventa anche al lavoro, devi stare lì a digitare sullo schermo con la tastiera. Ci vuole energia. Ma non abbia mai neanche penso giocato a pallone in vita sua. Se questo video raggiungerà 350 lives, vi svelerò in quale palestra Serena Mr. Fanny. Il web è un posto così.